vogliamo aiutarti selezionando i migliori prodotti selezione settembre top 5 russell hobs fiesta macchina per waffle ciambelline cupcake 900 w nero rosso il suo prezzo approssimativo è di 61 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 4 tristar wf 2.195 cialdiera per waffle acciaio inossidabile nero il suo prezzo approssimativo è di 34 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video vuoi che realizziamo un video di un prodotto o se ti piace questo canale faccelo sapere con il tuo supporto top 3. gourmet max waffle iron per quattro cialde belghe macchina per cialde con rivestimento antiaderente per quattro cialde belghe pulizia molto facile 1200 watt argento il suo prezzo approssimativo è di 49 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 2. waffles piastra belga 1200 w i cook piastra per waffle quattro fette macchina per waffle con controllo della temperatura plastica fenolica antiscottatura indicatori luminosi rivestimento antiaderente il suo prezzo approssimativo è di 35 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 1 punto clower 1629 macchina per waffle in acciaio inox opaco vincitrice del test stiftung warrant 01 2011 costruito come clower 1621 il suo prezzo approssimativo è di 39 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video speriamo di averti aiutato se desideri che aggiorniamo questa o altre recensioni faccelo sapere nei commenti del video grazie a tutti